Fere, ma perché mi chiuso qua dentro? Lo sai! Non me lo chiedere, lo sai benissimo! Che cosa ho fatto, Fere? Gli stunt! Lo sai che io non volevo fare gli stunt! Mi hai torturato di fronte a tutti i consolini! Quindi io da qui non ti farò mai più uscire! Sono uscito da solo, grazie! Fere! C'è praticamente, c'è una barriera blu! Aspetta, facciamo esplodere anche la barriera! Non credo che funzionerà, vai! Vado! L'hai visto? L'hai visto? E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki! E io sono Stef, che si chiama GTA V! E stiamo qui con un nuovissimo episodio del Si può fare, prontissimi a provare tante tante cose! Esattamente! Mi dispiace per la tua figuraccia del rapimento! Che non ha funzionato, ma ti do la possibilità di riscattarti per rapirmi! Perché la prima cosa che ci hanno proposto di fare, ed è davvero geniale! È bellissima! Io entro dentro il camion, tu vai nel posto dove si aggiustano i veicoli, aggiusti il camion e vediamo se in questo modo rimango chiuso dentro! Esatto! Magari ti si aggiusta pure il cervello e la smetti di torturarmi con gli stunt! È un buon investimento e una buona prova! Allora, ti ho insegnato a fare un complesso un generator automatico! Non mi ha insegnato proprio nulla! Il GTA 5 e pure il coraggio di criticarmi! Ti sto anche per insegnare a giocare a FIFA nei prossimi giorni! Sì, spoiler! Non fare spoiler! Non si fanno! Volevo spoilerare FIFA! Ok? Ok! Ok, dicevo ti insegnerò anche a FIFA! Quindi non ti puoi lamentare del tuo staff professore! Sono bravissimo! E invece mi... Dove hai sbattuto? Niente! Non è successo nulla! Ho visto le scintille fino a qua dentro! Ho portato giù un lampione ma non dirlo a nessuno! Va bene! Se passa la polizia non sono stata io! Ok! Ci siamo! Davvero? Siamo arrivati! Sì! Io non vedo nulla! Io non vedo nulla! Però... Allora, io entro! Ti faccio la teleclonaca! Esatto! Sto entrando! Sto entrando! Sto entrando! Sto entrando! Sti dentro? Che succede a fare? Al momento non si apre la... La ferranda! E che messaggio ti dice? Questo veicolo non può essere modificato! Oh! Non può essere modificato! Ha pensato a quest'idea! Ha pensato all'eventualità! Ma non è vero! Non ha pensato a quello... Ma forza! Dai, non è una coincidenza! Ma poi cioè, non è che lo volevo modificare! Lo volevo solo riparare! Cioè, almeno la riparazione base me la potevi dare! E se proviamo a lavarlo? Perché anche quando viene lavato, teoricamente è un po' la giusta, un po' lo sistema, eccetera, eccetera! Andiamo a lavarlo! Andiamo a lavarlo! Eh, però devi riaprirmi lo sportello, Ferre! Cerca di muoverti un po'! Sbatti da qualche parte! Ma hai notato che riesco a non cadere mentre tu ti muovi? L'ho notato! Ma faccio guarda, basta fare la passerella! Occhio alla pione! Oh, lo schifo! Non so come hai fatto! Ho avuto paura che lo fassi... Ferre, ma tu lo sapevi questa cosa? Eh, guarda! Anche se vado proprio a sgommando... Guarda, Ferre! Guarda! Ah, io! Hai preso il... Era un semaforo! È stato bellissimo! Vai verso il mio carro armato, così poi sistemiamo! Allora, dov'è il tuo carro armato? A sinistra, mi dici? Sì, a sinistra, vai! Vado, vado, vado! Ti faccio sia da navigatore sia da passerella, ok? Ok! Potete vedere i vestiti di Steffi il magnifico! Adesso? La te con quell'intelligenza si muove, è tipo a sinistra! Allora, io non lo vedo, quindi mi divido le indicazioni! Ti dico, ti metto il segno, ma non posso perché non vedi il mio segno! Ferre, io sono qua a fare la mia passerella! Lasciami in pace, che devo far vedere con solini tutti i miei vestiti bellissimi! Con questo veicolo non puoi usare l'autolavaggio! Allora... Sto incastrandoci a forza! No, Ferre! Aspetta, mi sto incastrando! Non voglio avere nulla a che fare, fammi uscire! Ferre, allora il camion ci serve per un'altra cosa! Torna indietro, dai! Ferre, è una cosa bellissima! No, allora vedi perché non lo puoi lavare, non c'entra proprio! Ah, ok! Mi sto totalmente incastrata! Puoi tornare in entro, marcia? Sì, ci sto provando! Vai dietro! Mi sto incastrata nell'autolavaggio! Come faccio? Dimmi! Senti che figata questo! Ok! Nella scorsa volta cosa abbiamo fatto? Abbiamo... Tante cose! Hai rapinato il negozio, io ho chiuso con il camion e la polizia non poteva entrare! Sì, esatto, esatto! Ok! E se questa volta rappiamo il market... Rapiniamo! Rapiniamo il market... Non è che tu porti via... Entra la polizia e chiudo con il furgone! Ma mi lasci arrestare con la polizia? No! Perché tu ti metti in un punto in cui riescono a spararti! Appena entrano, clicchi in via con l'ester... Ok, ok! Capisci? Ok, ok, vado! E vediamo come reagiscono! Però secondo me conviene che entro io stavolta! Dici? Dai sì! Perché così i consolini vedono, capisci? È vero, perché l'altra volta hanno visto la tua visuale con la polizia tutta fuori, quindi è giusto, è giusto! Allora, tu tanto devi fare giusto un po' di retromarcia ed è fatta! Ok! Allora, buongiorno signore, le devo ordinare un po' di soldi! Allora, praticamente, io adesso mi metto qua dietro, ok? In modo tale che loro non riescano a spararmi appena entrano, mi tengo già pronta la telefonata con l'ester, appena ne entra anche solo uno, tu chiudi! Ok, ok! E poi scendi subito dal furgone e scappa via, perché ti dà le stelle di polizia e non vorrei che magari ti fanno esplodere il furgone, capisci? Eccoli! Vai, vai, vai! È entrato o è fuori? Allora, sono fuori ma non stanno entrando! Eccolo! Ok, rimuovi l'unico di sospeso, chiudili, 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 chiudili! Due, 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 ho chiuso, ho chiuso, ho chiuso! Ok, è chiuso? Sì! Perfetto, allora, dammi dieci secondi che rimango immobile perché non vorrei che si arrabbiano di nuovo non appena mi vedono, dopodiché io esco... Ma aspetta, uno è uscito? Qui? Come? Uno è uscito dal negozio? Perché non è il tutto chiuso, Fer! Certo che è chiuso! No, devi attaccarti perfettamente al muro! È che noioso che sei! E ti stanno iniziando a sparare! Non è vero! Sì, Fer, finisci di chiudere e poi scappa via! No, è difficilissimo! Ma non è difficilissimo! Ok, l'hai chiuso! Bravissimo! Ora scappa via! Scappa via! Scappa via! Scappo dentro l'autolavaggio! Ciao! Scusi, poliziotto, non la voglio toccare! Mi hanno ucciso! La dobbiamo soltanto osservare! Ok, allora, tu adesso sei morta, quindi lui teoricamente si tranquillizza e infatti si è tranquillizzato! E adesso cosa fai? Sta decidendo cosa portare a casa, un po' di ketchup, un po' di maionese! Sì, ma tu non hai più le stelline, giusto? Ahà! Il poliziotto preferisce ketchup o maionese, dai, si muova a scegliere che quei consolini non è che vogliono stare due ore a guardare la sua brutta faccia! Decida cosa apprendere, prova ad uscire e via! Siamo restati fermi a guardare il nostro amico poliziotto negli occhi per circa 4-5 minutini e rimane immobile, quindi si può imprigionare un poliziotto! Abbiamo rapido... Mi vedi? Mi vedi che ti sto spiando dal vetro? Mi vedi? Sì, ciao, Fer! Ciao! Come stai? Salve poliziotto, sta divertendo! Non guardarlo troppo che magari si ricorda di te e torna a pararti! Si ricorda, ha detto come ha fatto a tornare questa disgraziata e quindi... Esatto, buongiorno poliziotto! Ha lasciato la sua macchina qui, secondo te è un regalo? No, Ferre! Ma la posso prendere? Ferre, non lo fare, dai che poi si arrabbia di nuovo! E se le do un calcio? No! Uffa! Fai da bravo! Allora, dai, prossimo si può fare, questo è stato un po' strano! Guarda, Ferre! Ferre, sto giocando a nascondino col poliziotto! Aspetta, no! Aspetta! Dove sono? Poliziotto, dove mi sono nascosto secondo lei? Guarda, mi sta cercando! Fammi uscire di qui, va! Va, dai, dai, dai! Infatti voglio vedere se adesso lui se ne va! Sì! Ha ripreso a camminare, quindi non è che si bagga per sempre! È proprio il... Cioè, non può proprio muoversi e rimane lì! Quindi guardate! Funziona! Ufficialmente Ferre, non lo fare! No, non lo voglio investire! Sto cercando di girare per andarmene da sto posto! Con te non si sa mai! I consolini ci hanno proposto un inception! Ok, praticamente noi ci facciamo inseguire dalla polizia e mentre la polizia ci insegue, chiamiamo al telefono la polizia! Si può fare! Oppure ti chiudono il telefono in faccia perché appunto sei ricercato! Mi saperebbe giusto! Allora, quindi se dobbiamo affrontare un inseguimento, io direi di cambiare assolutamente il veicolo, tu guidi e io chiamo l'altro! Ok, va bene! Vai, 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 vai! Puoi anche già chiamare, puoi anche già chiamare! Il numero dovevo fare! E 911 Chiamate in corso! Ok, dimmi se prima di tutto rispondono! Polizia, ci serve della polizia che sfermi la polizia! Funziona? Aspetta, sto ancora chiamando, sta squillando! Ok! E già sospetto, di solito rispondono subito! Mi sa che non mi hanno risposto! Io riprovo! Davvero? Sì, non mi hanno risposto! Aspetta, 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 perché io ce l'ho salvato il numero ormai, non so come, ma mi si è salvato! Vai! 911 Chiamate in corso! Eh, rimane chiamate in corso e poi scompare! Guarda! Ah, sì! Io ci sto riprovando lo stesso, uguale, niente, non si può... Cioè, addirittura non puoi chiamare né un'ambulanza, né un camion di pompieri, quindi niente di niente! No, hanno ragione, se sei un ricercato per la polizia lo sei per tutti! Ma scusa, allora stiamo dicendo che i criminali non possono essere curati o salvati da un eventuale incendio? Questa è una cosa che GTA la sta facendo molto grave, te lo dico, eh! Aspetta, aspetta, lo so che ti senti toccata perché tu sei la prima criminale, ok? Io vi sparo! Però, pensale in questo modo, se c'è uno che sta scappando dall'inseguimento della polizia ed è stato sparato dalla polizia, non è che chiama lui stesso un'ambulanza per farsi curare come se nulla fosse? Eh certo, cosa lo lasciamo? Lì morire, non si può! Ma prima la polizia l'arresta e poi lo curano! Anche se ho appena ammazzato i poliziotti dietro di me, scusa, li ho appena fucilati entrambi e mi dici che io non merito soccorso nel caso mi dovessi ferire mentre li uccido! No, questa cosa non mi piace! No, 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 no! Allora, chiamami Lester, va! Non mi piace! Chiamiamo il mio amico Lester! Sei davvero un caso disperato! Tu sei un caso disperato! Allora, ho notato che questa macchina, con la marmitta, ogni tanto fa delle scintille! Ok! Ok, e c'è una cosa che ho sempre voluto provare, però non avevo mai voglia di trovare una macchina che fa le scintilline con la marmitta! Ok, sì, ovviamente! Praticamente, se noi mettiamo un po' di benzina per terra e facciamo una scintilla con la marmitta, si accende quella benzina e prende tutto poco! Ma la sai rifare, la scintilla? Eh, ecco, quello è il problema! Eh, però, in qualche modo faccio! Allora, andiamo in un negozio a comprare la tannica, allora! Vai, Ferre, metti un po' di benzina davanti alla macchina! Sì, che bello! Senza esagerare, per favore! Tantissima! Ferre! Fatto! Non basta che sia una criminale, pure è piromare, capito? Allora, dai! È bello avere il pacchetto completo! Allora, io facendo... Hai visto? Abbiamo dato fuoco con lo scarico della macchina, vabbè, che bello! Solo noi ci possiamo dimenticare dove diavolo si trovano le cose, Ferre! Però, abbiamo trovato un bagno chimico! Sì, che questa è stata, diciamo, un si può fare lasciato in sospeso, perché noi li avevamo trovati, però ora che ci capita proviamo a farlo esplodere! Non lo lanciami, sì! Allora, la bomba adesiva! Ah, va bene anche quella! Certo, Ferre, certo, 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 certo! A me ne è venuto anche un altro, perché in questa location non siamo mai venuti, e quindi mi sta ispirando un sacco di si può fare improvvisati! Anche un bel nascondino si può fare in questa location! Anche secondo me! Vai! Sei pronto? Sì! Uh, però l'ho aperto! Aspetta, non si poteva aprire! Oh, ma è chiuso! Cioè, è un'apertura farlocca, questa! Ehi! Ferre! Cioè, praticamente, c'è una barriera blu! Aspetta, facciamo esplodere anche la barriera! Non credo che funzionerà, vai! Vado! L'hai visto? L'hai visto? L'ho fatto vedere anche nel tuo, mio Dio! Cioè, ma io lo vedo ancora! Anch'io! Ho davvero staccato la barriera blu dal bagno fisico, insomma! Allora, se riusciamo a farlo esplodere ancora... Cosa può succedere? Teoricamente possiamo vedere l'interno... Ho finito le bombe adesive, vai te! Vado? Fuoco! Ok, la stiamo... Vai, 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 teoricamente quindi qua, fuoco... Cioè, si bugga malissimo, ragazzi, si bugga troppo! Proviamo a lato! Proviamo a lato! Ok, ok! Adesso vedi che c'è la sportellina per... Non ci credo! Ciao, Fede, ti piace il mio bagno? Non ci credo! Cioè, questa cosa, invece, che rimane qua... Guarda, vedi che c'è lo sportellino che si muove... Sì, esatto! Se riuscissimo a... No, scusa, volevo dare un calcio... Vabbè, dai! Sì, sì, certo, certo! Ogni scusa è buona per colpire Steph! Esatto! Volevo vedere se riuscivo a vederlo in qualche modo! Allora, fammi continuare la bombe adesive, dai, magari prima o poi riusciamo a ribaltarlo! Ok? Vai, fallo esplodere! Vabbè, gli ho dato fuoco! Brava, brava, Fede! Spegniti! No, 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 no! Ti devi spegnere! Direi che ci possiamo fermare così, fateci sapere! E se volete un nascondino in questa location, se volete lo speciale, ed si può fare con soltanto il sottomarino, nel caso proponeteci delle cose da provare con il sottomarino, mi raccomando, e vadate dalla polizia con il sottomarino, ce l'abbiamo già segnata e la facciamo, Cargo Bob sottomarino, lo facciamo, proponeteci altre cose da fare con il sottomarino! Cercate di avere inventiva, pensate a tutto quello che vi viene in mente e proponetecelo nei commenti! Ovviamente sondaggino, likes, tutto quello che è super utile e ci fermiamo così! Beh ragazzi, lasciateci un like! E se la prima volta che vi vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, e alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!